L'80% del cibo che si produce nel mondo è prodotto dalle donne dell'Africa e dell'Asia, più o meno fra il 70% e l'80%. La questione della terra è molto complicata. In diversi stati dell'Asia e dell'Africa le donne non hanno diritto alla terra, non possono ereditarla o comprarla e quindi per loro è molto difficile prendere decisioni sostenibili sulla terra. Certamente le statistiche differiscono da stato a stato, ma è una questione mondiale che le donne non abbiano lo stesso diritto alla terra degli uomini. Dobbiamo risolvere questa questione se vogliamo avere una produzione sostenibile di cibo. E per quanto riguarda invece le tecnologie, che accesso hanno? La tecnologia è un altro aspetto molto importante della vita. Io stessa sono una donna contadina e so che non metterò mai in secondo piano le mie responsabilità di donna, madre e moglie perché sono una contadina. Quindi è molto importante che le tecnologie siano studiate per le donne. Devono essere adatte all'esigenza delle donne che non hanno tutto il giorno per occuparsi della terra. Se quindi l'agricoltura può essere meccanizzata, noi incoraggeremo le donne a rendere efficiente con la tecnologia il tempo che impiegano per coltivare la terra. In molti continenti e paesi però molte donne non sono andate a scuola e quindi se anche c'è la tecnologia non sono in grado di utilizzarla. Terza questione, c'è il problema del costo. Le donne hanno bisogno di tecnologie che siano accessibili così che possano utilizzarle per la produttività. In Europa invece com'è la situazione? Ha dei dati sulle donne in Europa e l'agricoltura? Ho avuto il vantaggio di lavorare con molte donne sia in Europa sia in Asia e in Africa. Ho visto differenze. In Europa non c'è il problema dell'accesso alla terra. Qui è possibile per le donne. Se parliamo delle donne europee forse dobbiamo concentrarci sul tempo che hanno a disposizione per dedicarsi alla terra. In secondo luogo poi in Europa. Le donne sono acculturate e sanno prendere le loro decisioni e conoscono i loro diritti. ma credo che comunque dobbiamo dare una mano alle donne d'Europa per farsi sentire perché non tutti i paesi sono uguali e sono certa che ci sono culture in cui è possibile che la donna sia ancora oppressa. Culture in cui alla donna è ancora impossibile sfruttare fino in fondo le proprie capacità di produzione. Exploiting the full potential of who they can be and what they can be able to produce.